Allora l'arbitro, c'è un altro cambio nelle fiori della Vigor Lalezia, sta per entrare, sì, è Federico Lauria e sono convinto che sbloccherà la partita, esce Carraro, Alberto Carraro fa posto a Federico Lauria, il cerchino della Vigor, vediamo se oggi ci darà questa gioia anche a lui di rendersi protagonista di un gol che ci potrebbe portare nella zona playoff che poi rimarranno altri 180 minuti.